Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1 rallentamenti per perdita di carico tra Calenzana e B1 Variante in direzione di Bologna. Sulla Firenze Mare restano rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e B11A1 in direzione di Firenze. In scipili rallentamenti per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta verso Firenze. Prudenza per Nebbi e Banchi in A1 tra Valdichiana e Chiusi, in Fipili tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Per il traffico ferroviario ricordiamo che la biglietteria di Rosignano è chiusa al pubblico fino a domani 22 febbraio. Per il traffico urbano di Firenze rallentamenti sulle principali direttrici in ingresso città, in particolare zona Via Letruria, direttrice Porta al Prato, Fortezza, Piazza della Libertà. Muoversi in Toscana-Vinfia, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!